Vince il Como ad Empoli e conserva il primo posto con la Cremonese. Al dodicesimo verrete il tersino Macoppi che raccoglie una corta respinta. Al ventisettesimo, al termine di questa bellissima azione personale, l'altro tersino Mannini segna il gol del 2-0. Seguiamo Mannini che fa tutto da solo sulla destra, aspetta l'uscita del portiere e fa gol di sinistro, 2-0. Successo molto importante per la squadra Lombarda dopo la sconfitta subita domenica scorsa a Trieste. Nel secondo tempo Cecconi accorsa le distanze per l'Empoli con questa rete. C'è un traversone dalla destra e Cecconi da due passi fa gol.